Amici e amiche di Rossini TV, oggi ci troviamo davanti al centro direzionale della Confartigianato ad Ancona per la presentazione della 17esima edizione della Scuola per Imprenditori. Un progetto nato dalla collaborazione tra Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino, l'Università Politecnica delle Marche e la società Confidi Unico. L'obiettivo della Scuola di Imprenditori di Confartigianato Impresa Ancona-Pesaro-Urbino è quella di essere uno strumento utile ai nostri imprenditori per competere in un contesto complesso. 17 anni di scuola imprenditori ci danno una grande forza, un grande onore, ma è un onere importante cercare di presagire il cambiamento. Quindi oggi presentiamo questa scuola sapendo purtroppo come Confartigianato che a settembre ci sarà un contesto molto complesso. Noi allo scorso anno, a ottobre, abbiamo evidenziato come il tema dell'energia, quando nessuno ne parlava sarebbe diventato un tema centrale, oggi lo è, è diventato molto complesso. Quindi abbiamo ipotizzato di strutturare questa scuola permettendo ai nostri imprenditori di acquisire nuovi strumenti per gestire al massimo il controllo della propria azienda. E crediamo che oggi questa sia la sfida che dobbiamo tutti noi portare avanti. Oggi più di ieri già lo stiamo facendo, molti nostri imprenditori si sono strutturati, ma noi dobbiamo come istituzione delle imprese, come Confartigianato, cercare di essere attenti a fornire strumenti. E abbiamo questa consapevolezza. È una scuola che da 17 anni offre grandi opportunità. Più di 200 imprenditori hanno partecipato a quella dello scorso anno e crediamo che oggi più di ieri dobbiamo offrire questo strumento assolutamente gratuito per i nostri associati, ma che possa permettere ai nostri imprenditori di superare anche questa ennesima sfida di questa epoca. Il percorso formativo sarà articolato su sette lezioni che si svolgeranno da settembre, ottobre e novembre. Saranno in presenza, ma per chi proprio non potrà essere qui in sede ci sarà la possibilità di seguirle online. Per quanto riguarda l'iscrizione è molto facile, basta andare sul nostro sito www.confartigianatoimprese.net oppure chiamare il numero verde 822 93 10. L'approccio deve essere operativo, cioè credo che lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni, parlo dell'università, sia stato quello di apprendere. Perché quando si interviene sul sistema di piccole imprese bisogna anche utilizzare metodologie e linguaggi che non sono quelli presi dalla multinazionale e adattati perché non funziona. Quindi bisogna invece al contrario utilizzare e sviluppare modelli ad hoc in maniera molto operativa.